Mi sembra che sia stato successo, ha portato in Italia una cultura nuova, ormai collaudata in altri paesi da sbariati anni e questo devo dire che ha un aspetto positivo non solo evidentemente per chi ha portato avanti questa iniziativa ma anche per tutto il settore che ne trae un vantaggio, una competizione sana, un miglioramento anche della qualità dei servizi professionali e quindi una sfida che siamo tutti disposti ad accettare e quindi complimenti a Mag.